Fiera della Madonna della Marina e Gay Pride nello stesso giorno, nella stessa location, Piazza Giorgini, il 24 luglio. Una coincidenza che ha innescato le immancabili polemiche, anche perché non bisogna dimenticare che l'emergenza Covid non è finita, anzi la variante D sta creando evidenti problemi in riviere e quindi ci sono importanti problematiche e disposizione di legge da tenere in debita considerazione. Anche a livello politico comunque non sono mancate le scintille fra gli opposti schieramenti ed in tal senso si registra l'intervento del consigliere comunale di Forza Italia Carmine Chiodi. È un problema logistico, nessuno qui in amministrazione ha sollevato nessun altro tipo di ragionamento. È chiaro che il 24 luglio c'è la Fiera della Madonna della Marina, alle ore 16.30 tutta quell'area dove si dovrebbe svolgere questa manifestazione per giustamente richiedere i diritti che ognuno di noi ha. È occupata, ci sono gli operatori della Fiera, del settore commercio suare pubbliche che stanno allestendo i propri stand e questo non permette sicuramente lo svolgimento di altri tipi di manifestazioni. Io rispetto i diritti e i doveri di tutti, ho solo sollevato ripeto, una problematica che è purtroppo presente. Le norme di assembramento sono chiare, le norme anti-covid, noi abbiamo la collaborazione per questo anche, tanto per dire, dei carabinieri in pensione. È oltre un anno e mezzo che ci stanno seguendo, per cui noi ci siamo comportati bene, rispettiamo tutto e tutti, però chiediamo anche rispetto per le manifestazioni che sono di tradizione, non è qualcosa che ci invendiamo per dar fastidio a qualcuno. Basta andare a vedere che stanno nei calendari regionali, per cui c'è poco da dire, insomma. Intanto l'associazione Libera Tutte, che organizza il Gay Pride in Piazza Giorgini, sta attendendo una risposta da parte del Comune a fronte della richiesta già protocollata, così come sta già adattata la questura di Ascoli Piceno con la comunicazione della manifestazione. Se poi gli organizzatori del Gay Pride hanno preso, come si dice, contatto con l'amministrazione comunale, con il sindaco, con qualcun altro, questo, ripeto, non mi è dato sapere. Io rimango comunque a disposizione, se qualcuno mi contatta, per trovare una soluzione, che sicuramente non è quell'area lì, però insomma, io ci metto tutta la mia buona volontà per venire incontro alle esigenze e agli interessi di tutti.